Trismoca presenta il campionato italiano dedicato agli artisti del caffè, Trismoca Challenge 2014. 12 tra baristi e studenti si sfideranno per la finale Brescia-Bergamo e accedere alla fase nazionale per l'ambita tazzina dei campioni, dal 23 al 25 febbraio a Montichiari, all'interno di Aliment. Trismoca, l'espresso campione per un barista eccellente. Grazie a tutti.